Unisciti a me e io completerò il tuo addestramento. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. Mi ha detto che l'hai ucciso tu! No, io sono tuo padre. No, no! Non è vero! Non è possibile! Unisciti a me e insieme potremo governare la galassia come padre e figlio. R2! Che cosa? Leia! Luke, dobbiamo tornare indietro. Pronti per l'iperspazio? Avevano detto di averlo sistemato! R2! 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 R3! R2! R3! Grazie a tutti.